Ha una brutta impressione da questa audizione alla Camera, si ha veramente la sensazione che vogliano rubare un miliardo e sei comuni alle città italiane, un miliardo e sei destinati alle periferie per la sicurezza, per la lotta al degrado, per politiche di socialità, con progetti in corso, con un danno erariale enorme per i comuni. Speriamo che il cambiamento pari a cambio opinione, ma la sensazione non è buona, soprattutto dal punto di vista della maggioranza parlamentare, quindi dovremo alzare al massimo la mobilitazione dei sindaci perché non si può riempire la bocca con la parola periferie e poi togliere un miliardo e sei alle città.